L'aeroporto volerà o non volerà l'Arlotta? Perché vedere che abbiamo questo aeroporto meraviglioso con una pista deputata ai voli intercontinentali e che però giace lì ferma, il cargo non ci basta. Guardi, le dico solo che sto chiamando personalmente i responsabili di quasi tutte le linee aeree che potrebbero essere coerenti con l'Arlotta e qualcuna mi ha dato qualche speranza. Quindi tra breve formuleremo il bando di concorso per mettere a disposizione anche gli aiuti in danaro della Regione Puglia per rendere più economica la gestione dell'aeroporto e poi bisognerà sperare che qualcuno partecipa.